La domanda mondiale di petrolio crescerà ben più del previsto, secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia. L'ennesima conferma che il crollo dei prezzi del greggio stimola il consumo. Nel suo rapporto mensile, l'agenzia ritiene che la domanda mondiale di petrolio nel 2015 toccherà i 94 milioni di barilli al giorno, con una crescita di 1,4 milioni rispetto agli 1,1 indicati nel rapporto del mese precedente. Oltre al calo dei prezzi, a spingere la domanda sarebbero stati due fattori, la ripresa economica e un inverno più freddo dell'anno scorso.